Il Comune di Battipaglia ha pubblicato l'avviso pubblico di selezione per la realizzazione di un progetto avente finalità sociali. In pratica, mediante l'affidamento, in concessione d'uso, a titolo gratuito di un immobile, appartamento sito nell'abitato del Comune di Battipaglia alla via Generale Ferrante Gonzaga, di metri 104, confiscato alla criminalità organizzata, da destinare ad attività a servizio delle fasce più giovani della comunità, quale luogo di incontro socioculturale e di aggregazione, per offrire concrete opportunità occupazionali anche a soggetti lavorativamente svantaggiati. La scadenza della presentazione della domanda è prevista in tre giorni dalla data di pubblicazione della determina.